Io sono Cesare Casadei e sono il direttore creativo del nostro brand Casadei. La collezione autunno-inverno 2013 ha nel suo DNA lo spirito della pin-up del nuovo secolo. Questo era un po' l'imperativo categorico e l'atmosfera che volevamo dare alle nostre donne nel prossimo inverno. Quindi un percorso che parte dagli anni 40, quindi dal simbolo della femminilità, le pin-up, per arrivare fino all'esasperazione di un plateau interno che per noi viene chiamato Betty Page per dare l'espressione massima di quello che era la seduzione, un po' particolare ma anche molto sensuale. Per arrivare fino a un'icona post-moderna come Lady Gaga, quindi arrivare a interpretare una zeppa creando una zeppa altamente seduttiva, altamente innovativa e tecnologica, quindi un mix tra la seduzione e l'ingegneria calzatoriera. Ritengo che le fondamenta di tutta la collezione siano un po' la forma che ho chiamato pin-up, delle décolleté scolpite con tagli puri, netti, con materiali di alta qualità, alta femminilità, ma di estrema purezza nella calzatura, dove noi abbiamo inserito e presentato i nostri colori, naturalmente come facciamo ogni stagione, personalizzati da noi, come il rosso Heros, il colore glicine chiamato Iris, il nostro arancio chiamato Giunone. Abbiamo voluto riprendere i nomi degli dèi dell'Olimpo. Questo tocco di fluo che avevamo lasciato nella nostra collezione estiva e quindi che avevamo dato una modernità, il tocco degli evidenziatori nella nostra collezione, continuano anche nella collezione notturno-inverno. Abbiamo utilizzato i piping, questi profili fluo, per dare un colore estremamente forte, estremamente interessante e moderno come il fluo. alle nostre calzature, quindi l'abbiamo utilizzato sia nei colori scuri come il nero, ma l'abbiamo utilizzato anche nei colori neutri. In questo caso il fluo ci serve per dare anche all'animalier un aspetto nuovo, una livrea nuova, un vestito completamente diverso. In questo caso il fluo ci serve per dare anche all'animalier un aspetto di un aspetto di un aspetto di un aspetto di un aspetto. Grazie. Grazie.